Ho qui un libro che non esito a definire importante, il titolo è Giustizia e mito, i due autori Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, Luciano Violante, professore, magistrato, uomo politico, non ha bisogno di molte presentazioni. Loro intitolano Giustizia e mito perché partono addirittura da Edipo e da Antigone, due tragedie greche, dove sono stati fondati alcuni principi fondamentali del processo, del procedimento giudiziario, nonché alcuni dubbi fondamentali. Io non posso però partire da lì, devo concentrarmi su due punti perché questo libro esile di pagine è molto denso di trattazione e del più grande interesse. Il primo punto sul quale mi fermo è che il processo in uno stato totalitario tende a confermare la tesi dell'inquisitore, cioè la pubblica accusa in uno stato totalitario esce sempre vincitrice dal processo. Laddove nello stato democratico, scrivono gli autori, il processo sottopone l'acquisizione delle prove a garanzie, termini, prescrizioni, decadenze, sancisce l'inutilizzabilità della prova illegale. Tanto è vero che la finalità del processo dello stato democratico non è l'accertamento della verità a tutti i costi, ma solo della verità processuale, principio che potrà far sobbalzare, ma che è una delle nostre principali garanzie. L'altro punto fondamentale sul quale dico qualche parola, perché nel libro ce ne sono anche altri che devo saltare, è questo, che diritto, religione, morale sono tre principi e tre attività strettamente intrecciate nell'esistenza degli esseri umani. Dove comincia la loro separazione e dove invece è bene che stiano insieme? Qui ci sono delle pagine illuminanti, perché per esempio scrivono una indebita sovrapposizione di piani tra legge, religione e morale è un pericolo. Vediamo che cosa succede per esempio in alcuni stati islamici, dove non è ancora stata stabilita la differenza tra peccato e reato, cioè legge e moralità, addirittura di ascendenza divina. Ma d'altra parte è anche una totale separazione tra morale e legge, è un altro pericolo. Insomma, i due autori, per farla breve, ma la trattazione, ripeto, è assolutamente seducente e illuminante, è arrivare a questa conclusione, di cui la necessità di una giustizia ragionevole, proporzionata e prudente, meglio imperfetta, perché consapevole che la giustizia nelle vicende umane è una meta sempre da raggiungere, ma molto lontana.